Siamo a fine anno, è tempo un po' di bilanci, è un anno particolare questo, diciamo post-pandemico, anche se la pandemia non ci ha ancora abbandonato del tutto. La crisi economica veleggia, il caro energia, il caro carburante attanaglia tante famiglie. Il mio augurio ai Ravennati di trascorrere delle serene festività, nonostante questa situazione difficile, questa situazione critica. La Ravenna ce la sta mettendo tutta, vedo che anche noi come forze dell'ordine c'è un bel clima di coesione con noi e con tutte le autorità locali. Voglio rivolgere anche un ringraziamento, un augurio sincero ai nostri sindaci, a tutti i sindaci dei nostri 18 comuni per la grande collaborazione che hanno offerto in questo anno. C'è un bel rapporto tra noi, Stato e le autonomie locali, lo dobbiamo ancora rafforzare di più, questo bel rapporto anche nel 2023. Ai cittadini ravennati devo dire grazie perché mi hanno accolto bene, sono passati nove mesi e qui ho trovato una realtà veramente fiera di sé, orgogliosa, con un volontariato diffuso e solidale. Questa è la Ravenna che mi piace, oltre ovviamente alle sue straordinarie bellezze artistiche.